buongiorno la luce non è delle migliori lo dico subito ma il sole è dietro di noi mentre stiamo andando alla fermata della metro vabbè si della metro il buongiorno di oggi è un buongiorno direttamente da Londra perchè ieri sono arrivata qui, qui c'è Giulia qui c'è Giulia e più tardi ci raggiungerà anche Federica non so se tu Giulia sei mai comparsa nei miei vlog no l'estate scorsa così vabbè in realtà ci conosciamo ormai da un anno più di un anno però non è mai comparsa nei miei video è una ragazza timida comunque adesso stiamo andando da casa alla fermata della metro così andiamo in centro a Londra e come vedete da come sono vestita si sta benissimo e non è scontato perchè voi direte vabbè estate è ovvio che si sta bene in realtà no perchè a Londra anche d'estate potrebbe tranquillamente piovere e fare freddissimo invece sono venuta proprio nella settimana in cui c'è questa hot wave come si dice comunque questa ondata di caldo tantissimo caldo quindi fa veramente veramente caldo proprio come in Italia sono molto felice perchè speriamo non piova mai in questi giorni perchè è bellissimo si sta molto meglio che in Italia perchè nonostante ci sia il sole fa caldo comunque c'è un bel venticello fresco infatti di mattina fa quasi freddo freddino però un freddo bello che ti rinfresca poi durante il giorno questo bel sole comunque sono qua solo da un giorno perchè sono arrivata ieri quindi ho ancora tanti giorni da vivermi che potrebbe accadere di tutto quindi come vi ho detto adesso stiamo andando in centro e poi pranzeremo in giro abbiamo fatto colazione a casa non so se mi sentirete e poi appunto facciamo un giro una bella giornata fuori guardate che bello il quartiere dove siamo a parte che se stiamo in silenzio non si sente niente non ci sono rumori è stranissimo cioè non sembra di essere neanche a Londra poi vabbè qua ovviamente ci sono tutte queste case favolose bellissime classiche inglesi adesso qua c'è una un complesso di case proprio inglesissimo guardate tutte uguali una di fianco all'altra bellissimo poi la giornata ve la faccio vedere anche dal cielo guardate il cielo non c'è una nuvola è bellissimo mamma mia e poi ci sono anche tanti alberelli qua e là c'è molto verde nonostante appunto siamo in città questa zona mi piace tantissimo ho deciso che quando vi spiegherò dove siamo non dirò mai siamo in una delle mie zone preferite perché tutte le zone di Londra sono le mie proprite infatti questa sarebbe una delle mie zone preferite ma non lo dirò che lo è ovvero la zona oddio c'è un riflesso strano ovvero la zona dei ponti adesso in questo momento ci troviamo sul London Bridge e dal London Bridge si vede benissimo il Tower Bridge che adesso vi faccio vedere ponte con le due giardette non so se mi sentite perché c'è un sacco di vento comunque mi piace molto questa posizione perché si possono vedere sia i monumenti antichi sia poi anche i grattacieli nuovi e dall'altra parte là in fondo c'è anche San Paul Cathedral che è una cattedrale molto bella enorme e là continua la città cioè questo posto secondo me è veramente benissimo venite se venite a Londra venite al London Bridge che vi vedete tutto comunque non so se ho parlato a Vambera o se mi avete davvero sentito perché c'è un sacco di vento altra fermata altra zona stavo dicendo se si sente ma stavo dicendo che siamo in un'altra zona sempre sul Tamigi ma siamo venute a London Eye purtroppo il Big Ben è in ricostruzione quindi niente ci godiamo di più il London Eye ci siamo fermate per il pranzo e siamo andate anzi io sono passata da Pret per prendermi il wrap all'avocado e poi siamo venute qui da Starbucks per le bevande purtroppo devo fare un annuncio tristissimo almeno per me ieri che sono arrivata a Londra ovviamente mi sono fiondata da Starbucks per prendere il cool lime che è la mia bevanda preferita non solo di Starbucks ma in assoluto e ho scoperto dal cassiere di Starbucks che il cool lime non viene più fatto da Starbucks che era la mia bevanda preferita sono tristissima quindi adesso sono alla ricerca della mia nuova bevanda preferita quindi ieri ho provato questo qui che è tè freddo alla fragola che devo dire è abbastanza buono però non è buono come cool lime oggi ho deciso di provare un'altra cosa l'ha preso Giulia adesso il tè alla fragola che ho preso ieri e oggi voglio provare questo sembra un po' cool lime dal colore ma in realtà non è cool lime ma è tè freddo alla pesca con limone una roba del genere adesso lo provo anzi lo provo con voi per capire potrebbe anche non piacermi perché non l'ho mai provato sa proprio di tè alla pesca senza zucchero perché mi ha chiesto anche se lo volevo con lo zucchero però avevo paura che poi diventasse troppo zuccherato quindi è proprio tè freddo fatto cioè sembra proprio il tè della bustina alla pesca senza l'aggiunta di zucchero mi manca tantissimo il mio dorato con lime siamo tornate a casa non sono neanche le 7 ci siamo già docciate sistemate e abbiamo deciso di fare un ordine su Uber Eats per me è una cosa stranissima perché di solito ovviamente non lo faccio visto che io non abito in città a Milano ma fuori e lì non arriva nulla che porta le cose da sporto tipo Deliveroo queste cose qua quindi è stato molto emozionante abbiamo ordinato al McDonald's solo che non abbiamo calcolato evidentemente bene i tempi e non sono neanche le 7 e c'è scritto che il nostro ordine arriverà alle 7 in punto magari poi ritarderanno così però in realtà mangeremo tipo tra pochissimo che però va anche bene visto che ho un sacco di fame da un momento all'altro mi è arrivata una super fame però può essere anche giusta visto che alla fine a merenda non ho mangiato nulla perché eravamo in giro siamo state poi anche a Oxford Street a fare un giro per i negozi però non ho comprato nulla sono le 19.10 ed è arrivato adesso scopriamo se è rimasto caldo oppure no però ci ha messo veramente pochissimo no allora cioè guardate le patatine ma le hanno infilate dentro vabbè però sono calde ma la cosa è che le coche erano rovesciate per fortuna non si sono aperte cioè nel senso non si sono rovesciate davvero ma un po' di liquido era caduto infatti il sacchetto era tutto bagnato vabbè comunque io ho preso il filetto fish le patatine e la coca zero anche Giulia ha preso la coca zero il cheeseburger anche lei le patatine e poi così ho voluto provare i bites forse li avevo già provati in Italia ma qua mi sembrano diversi rispetto all'Italia quindi vabbè volevo provarli quindi questa sarà la nostra cena buongiorno oggi secondo giorno intero perché in realtà sarebbe il secondo e mezzo visto che sono arrivata giovedì mentre oggi è sabato siamo pronte per uscire come vedete e vi ho appoggiato in una situazione strana perché volevo farvi vedere l'outfit ma non abbiamo uno specchio intero quindi dovrete accontentarvi di questa bellissima inquadratura ecco qua questo è il vestito che indosserò oggi io lo adoro ed è di Urban Outfitters ma non l'ho preso qua l'ho preso sul sito di Urban Outfitters e lo adoro anche perché è lunghissimo quindi è super comodo e poi ho i miei soliti orecchini e accessori tutti sull'oro e questo è l'outfit di oggi come scarpe metterò le all star ho portato solo le all star nere come scarpe e come vedete il trucco è molto molto semplice luminoso sulle labbra tra l'altro ho messo semplicemente un burro cacao neanche un prodotto labbra nel senso tipo un rossetto così oggi volevo stare proprio soft perché fa caldissimo anche oggi vabbè che qua siamo in mansarda quindi qua fa veramente caldissimo però anche fuori ci sono tipo 28 gradi quindi forse anche di più e poi comunque anche oggi andremo in centro faremo un sacco di camminate in giro e quindi sicuramente farà super caldo ed ecco la giornata di oggi guardate anche oggi neanche una nuvola bellissimo bene possiamo uscire siamo arrivate nella zona di Notting Hill fa caldissimo lo ripeterò mi sa un po' troppo ma fa caldissimo infatti adesso prima di continuare verso Portobello Road ci fermiamo da Starbucks a prendere qualcosa penso che prenderò l'ice caramel macchiato visto che con l'ime non c'è più anche questa cosa la ripeterò sempre Giulia tutto bene? fa caldo vero? tutto bene più o meno preso ice caramel macchiato anche Giulia gli ho detto di provarlo era un po' indecisa ma alla fine l'ha preso e le piace quindi provatelo anche voi se non l'avete preso e da Starbucks ho incontrato una ragazza anzi una ragazza in realtà una ragazzina perché era abbastanza piccola che mi ha riconosciuta che era qua in vacanza che è qua in vacanza a Londra infatti anche nei giorni scorsi da Primark un po' in giro ho incontrato un sacco di voi che bello che è vedervi anche qui a Londra bellissimo vabbè adesso continuo con il mio ice caramel macchiato e giriamo per Notting Hill e andiamo verso Portobello Road come vi ho detto già sono appena uscita da Kat Kidstone che è un negozio inglese una catena inglese e sono molto felice di esserci andata perché c'erano i saldi e ho anche preso due cosine molto carine ve le farò vedere poi in una haul non sto comprando tantissimo non sto facendo troppo shopping in questi giorni però le poche cose che sto prendendo ve le farò vedere perché sto cercando di scegliere le cose più carine che vedo e comunque se mi seguite da un po' sapete che qui da Kat Kidstone compro sempre l'agenda che uso durante l'anno e quindi l'ho presa anche quest'anno allora fa caldissimo ok guardiamo quanti gradi ci sono se ci sono meno di 25 gradi non ci credo ok ci sono 27 gradi ora si spiega tutto sono le 14.39 allora dopo Notting Hill volevamo andare a Hyde Park che è sempre sulla rossa con la metro a parte che ci abbiamo messo un sacco per arrivare a destinazione perché abbiamo fatto un giro più lungo oddio sta volando tutto per fortuna c'è questo vento altrimenti si morirebbe davvero comunque volevamo prendere da mangiare da pret o comunque in qualche posto e poi mangiarcelo nel parco abbiamo guardato il pret più vicino e non era vicinissimo però abbiamo detto vabbè camminiamo un po' e poi torniamo a Hyde Park camminiamo camminiamo e pian piano vediamo che c'è una strada chiusa abbiamo detto vabbè i pedoni possono andare andiamo alla fine scopriamo che l'intera stazione dove all'interno c'erano tutti i posti per mangiare quindi pret e gli altri era chiusa cioè completamente però noi ormai eravamo più vicine al prossimo pret piuttosto che Hyde Park quindi abbiamo detto vabbè andiamo avanti e alla fine non è che ci siamo perse perché avevo sempre in mano la mappa però non sapevamo bene dove stavamo andando anche perché questa zona non la conosco molto bene e alla fine dopo la fermata di Paddington siamo arrivate a Little Venice che non ho mai visto però sapevo che c'era ed è praticamente come se fosse un po' la riproduzione di Venezia ovviamente non ha niente a che vedere con Venezia però siamo praticamente sui canali c'è questa piazzetta c'è questo verde poi ci sono tutti i canali che dopo visitiamo quindi vediamo Pret in lontananza ci avviciniamo e Pret è chiuso pure qua quindi alla fine siamo venute da Starbucks non so se si vede che siamo da Starbucks comunque siamo venute da Starbucks e abbiamo preso questo pranzetto io ho preso questo panino che si chiamava in passato bella mozzarella comunque in ogni caso ha dentro formaggio, pomodori, pesto e poi ho preso di nuovo il strawberry black tea perché non c'è più il cool lime e lei invece la Giulia ha preso questo tipo hamburger con il bacon se non sbaglio giusto? non si sa no ham and cheese ok e praticamente là come vedete in lontananza c'è questa barca finta e tutti i canali che dopo andremo a visitare comunque buon appetito adesso ci siamo messi un po' qui al sole abbiamo trovato questa specie di un po' non so come dire praticamente proiettano credo siano i mondiali ma quest'ora i mondiali si sentono per sole urlare ogni tot quindi probabilmente sono i mondiali altrimenti non mi spiego perché urlano ogni tanto comunque e appunto boh non so vabbè comunque noi ci siamo messe qui al sole perché c'è un vento bello forte e all'ombra adesso fa quasi freddo e guardate che bello praticamente ci sono tutte queste scalinate con l'erba e le scalinate sono arcopalenate praticamente dal rosso va fino al viola non so se lo vedete e noi ci siamo messi su queste panchine al sole è tranquillissimo qua e là c'è il pret che vi dicevo che è chiuso c'è ma è chiuso speriamo con questo sole di non bruciarmi perché ovviamente non ho messo la protezione sul corpo sul viso per fortuna sì perché ad estate uso sempre una crema primer idratante con all'interno la protezione però ormai lo sapete che sono una veterana della bronzatura non dovrei bruciarmi non lo sapete oddio cosa si è brutta siamo tornate un attimo a casa per rinfrescarci un attimo e adesso sono le 19 vi mostro qua no si vede ok sono le 19 e stiamo per uscire di nuovo come vedete mi sono anche cambiata adesso sto indossando questo jumpsuit ok eccole qua questo jumpsuit che ho preso da monkey infatti farebbe parte delle cose che vi devo mostrare che ho comprato qua a Londra vabbè anteprima ho comprato questo questo jumpsuit che era in saldo perché qua a Londra ci sono i saldi e l'ho preso appunto da monkey quindi ho indossato questo per questa sera adesso andremo nella zona di Camden e poi vorremmo andare a vedere dopo cena il tramonto perché almeno qui forse anche in Italia in realtà non me lo ricordo più però qui il sole tramonta tardissimo tipo ieri alle 10 di sera c'era ancora il chiaro quindi vogliamo vedere il tramonto dopo cena a Primrose Hill che è una collina da cui si vede tutta Londra è comunque anche la collina a Londra però si vede tutta la città da questa collina non ci sono mai stata però tante mie amiche ci sono state è un posto conosciuto e quindi vorremmo fare questa cosa adesso vediamo se la cosa funzionerà se riusciremo ad arrivare giuste per il tramonto oppure no però intanto andiamo a Camden che invece è una zona che ho già visitato molte volte però qua c'è Giulia in questa vacanza in questa vacanza non sono ancora andata e Giulia è molto timida e muta davanti alla telecamera si nasconde sempre però è sempre presente anche lei ah e tra l'altro la Federica non ve l'abbiamo ancora detto la Federica in questi giorni doveva lavorare e quindi ci raggiungerà stasera perché ha finito di lavorare per questa settimana e ha dei giorni off quindi è per quello se non l'avete ancora vista ma non vi preoccupate vedrete anche lei bene adesso possiamo uscire come vedete c'è ancora un sacco di luce e soprattutto fa ancora molto caldo siamo arrivati da Itzu per cenare è molto comodo questo ripiano comunque io ho preso da Itzu il sushi invece Giulia ho preso KFC ma lo stiamo mangiando qua insieme tra una cosa e l'altra c'erano un sacco di linee chiuse della metro abbiamo dovuto fare un giro tipo abbiamo dovuto girare tutta Londra per arrivare a nord perché adesso siamo a Camden e quindi non so se riusciremo a fare la cosa del tramonto spero di sì però sono già tipo le otto e mezza se non di più sono quasi le nove non so se riusciremo a farlo ma non è di peso da noi perché noi siamo uscite giusti e tutto il resto avevamo tutto l'itinerario preparato però purtroppo c'erano alcune linee completamente ferme quindi adesso vediamo che cosa fare comunque intanto mi consolo con il sushi ok stiamo tornando a casa alla fine allora ci sono stati vari problemi oggi verso l'ultima parte della giornata stanno succedendo cose strane comunque la cosa è che una volta uscite da Itzu è iniziato questo vento cioè in realtà i gradi non sono bassi però c'è questo vento molto freddo io sono uscita così ovviamente la Giulia almeno si è portata una giacchetta e tra l'altro era anche abbastanza tardi come vedete il cielo sembra chiaro in realtà praticamente sta finendo il tramonto in più la Federica doveva raggiungerci a casa quindi alla fine abbiamo deciso di tornare a casa quindi abbiamo fatto un sacco di strada tantissima strada non dico per nulla perché è stato bello vedere Camden però per nulla potevamo potevamo farlo un'altra volta però volevamo farlo quindi vabbè e niente è stato comunque bello fare cioè praticamente stasera abbiamo passato più tempo nella metro che al di fuori della metro però mi piace molto questo clima questa luce anche se il venticello freddo c'è e adesso appunto tornate a casa volevamo fare oddio aspettate che c'è qualcuno mi vergogno dicevo no dicevo che stasera volevamo fare tipo uno sleepover con le maschere e cose così solo che ci siamo dimenticate completamente di comprarle tra l'altro prima che chiudesse Superdrug siamo anche passate da Superdrug a Camden però non ci stavamo pensando stavamo pensando di più al cibo all'acqua perché avevamo fame e sete e quindi ci siamo dimenticate delle maschere e ormai Superdrug era chiuso dopo cena tra l'altro io sto costantemente visitando tutti i boots e i Superdrug perché sto cercando la collezione dei prodotti di Zoella non so se l'ho già detto nel vlog perché sulle storie su Instagram lo sto ripetendo ogni giorno non mi ricordo se qui l'ho già detto però sto cercando disperatamente disperatamente oddio sto cercando i prodotti della linea di Zoella la linea del corpo ma non sembrano esserci proveremo nei prossimi giorni adesso ci facciamo questa bella passeggiatina così digeriamo e arriviamo a casa buongiorno scusatemi per ho in mano le calze scusatemi per la voce è tutto ma ho l'allergia sto morendo questa notte è stata un inferno continuavo a svegliarmi sia per il caldo che per il freddo che per il il naso che si chiudeva qualsiasi cosa è successo qualsiasi cosa adesso infatti prima di uscire prendo l'antistaminico perché ieri alla fine mi sono dimenticata di prenderlo ed è stata una giornata infernale si è aggiunto poi ovviamente il caldo adesso prendo l'antistaminico questo mi salverà la vita oggi e tra l'altro ieri non non ho vloggato nel senso voi state vedendo questa giornata con un salto cioè ieri non l'avete visto perché ieri ho registrato un video che vedrete prestissimo prendo l'antistaminico dicevo che ieri ho registrato un altro video che non è un vlog esattamente oddio sta cadendo tutto ma è il video instagram controlla la mia vita versione però a londra perché mi sembrava carina come idea di farlo un po' diverso dal solito quindi presto dopo questo vlog penso caricherò anche quel video lì dove appunto per una giornata avete deciso che cosa dovevo fare è stato bello registrare quel video perché non l'avevo mai registrato però devo dire la verità faceva troppo caldo ieri per fare qualsiasi cosa quindi ci sono stati momenti in cui pensavo di non farcela anzi pensavo di svenire infatti oggi abbiamo deciso di utilizzare solo una linea della metro perché lo spiegavo anche nel video che ho appunto registrato ieri che qui a Londra ovviamente non sono abituati a queste temperature così alte quindi non ci sono non c'è l'aria condizionata all'interno delle metro proprio anche dei vagoni e tutto il resto quindi era un inferno sia sulla terraferma al di fuori del sottoterra perché faceva caldissimo e anche quando si andava sottoterra faceva caldissimo perché ovviamente l'aria condizionata non c'era non è che non funzionava proprio non c'è quindi oggi solo perché ci vogliamo bene e non vogliamo morire utilizzeremo una sola linea della metro che è la linea su cui c'è la nostra fermata che è la Jubilee Line ovvero la linea grigia che tra l'altro non è affatto male anzi perché ci collega benissimo al lungo fiume non lungo lago lungo fiume cioè sul Tamigi quindi adesso penso che andremo lì per pranzo e nulla anche oggi è una giornata bellissima super calda salite ovviamente fa caldissimo vorrei che potesse provare la la temperatura che c'è qui dentro siamo arrivate a destinazione che ridere perché avevo descritto questa zona a Giulia dicendo cavolo io mi ricordo che c'era una zona sul Tamigi dove c'era un veliero non stavo scherzando guardate ecco il veliero l'abbiamo trovato e in pratica questa zona è sempre vicina al London Bridge solo che il primo giorno se non sbaglio siamo venute giusto? il primo giorno siamo venute al London Bridge ma siamo andate verso il Tower Bridge mentre adesso stiamo andando ok mentre adesso stiamo andando dall'altro lato verso South Park quindi qua abbiamo il veliero di là tutti i soliti erifici moderni grattacieli e adesso ce ne andiamo per queste stradine che io adoro perché sono tutte fatte di questi mattoni caratteristici grazie questi mattoncini sono proprio caratteristici di Londra io adoro queste viette così quindi adesso andiamo un po' qui in giro ad esplorare ora di pranzo siamo venute da Wagamama che è proprio qui nella piazzetta che abbiamo trovato anzi che io già conoscevo infatti qui di fianco c'è Nandos ma abbiamo deciso Wagamama che tra l'altro Giulia non ha mai provato quindi adesso scegliamo un po' dal menù che cosa prendere ci sono un sacco di piatti buonissimi dopo tipo un'ora a guardare il menù perché quando parlo ci sono sempre rumori strani comunque abbiamo passato un'ora a guardare il menù e a scegliere ma alla fine ce l'abbiamo fatta e a me sono già arrivate due cose manca la miso soup ho preso questa insalata con dentro varie cose e sopra ci sono questi pezzettini di cipolla fritta che adoro la usano anche nel sushi poi ho preso questi ravioli ai gamberetti che mi piacciono tantissimo anche questi li prendo sempre al giapponese e adesso appunto sto aspettando la mia miso soup mentre alla Giulia ancora non è arrivato nulla ed ecco anche la miso soup e siccome le mie cose erano tutte negli antipasti ma io le ho prese come piatto principale a Giulia non è arrivato niente perché lei ha preso un piatto principale vabbè cercherò di aspettarla ma queste due cose sono calde quindi mi sa che le devo iniziare a mangiare anche il piatto di Giulia è arrivato noodles con salmone ora posso dirvi buon appetito stiamo aspettando tutti tutti ovvero io che mangia cavolo di piatto con ste bacchette che non sa usare ma vuole usarle per forza ma vabbè io sto qua aspettarla io ho finito tutto lei ha ancora tutto il piatto e poi è anche arrivato il sole come vedete prima il sole era solo su quei tavoli e adesso c'ha illuminata ed immenso quindi sto anche morendo di caldo sì ok la giornata è bellissima non piove da giorni però basta sto caldo è troppo è troppo buongiorno oggi è l'ultimo giorno intero qui a londra lasciate perdere la stanza che non è che è in disordine in realtà c'è solo qualcosa però abbiamo dentro la stanza le cose gli stendini per asciugare le cose perché perché qui sopra arriva un sacco di caldo un sacco di sole quindi è perfetto per mettere ad asciugare le cose comunque oggi è l'ultimo giorno qui a londra intero perché partirò domani e penso proprio che oggi andremo di nuovo in una delle mie zone preferite come se a londra ci fossero zone che odio però andremo veramente in una delle mie zone preferite ora capirete perché perché andremo a oxford street carnaby street e tutte quelle stradine viuzze di quella zona in questa zona ci siamo andate il primo giorno se non sbaglio subito infatti il primo giorno ho anche fatto un po' di shopping e quindi oggi volevo andare a vedere le ultime cosine anche perché qui a londra ci sono i saldi non so se sono i saldi estivi che tra poco inizieranno anche in Italia oppure non lo so comunque da praticamente quando sono arrivata io una settimana fa hanno iniziato anche i saldi quindi ho già preso appunto delle cosine in saldo c'erano delle magliette molto carine che costavano tipo solo 5 pound da forever 21 ma in tantissimi negozi quindi torneremo lì ho già fatto colazione e quindi adesso mi preparo così poi possiamo uscire e ovviamente pranzeremo fuori un po' come tutti i giorni e basta questo era il mio buongiorno anzi il mio ultimo buongiorno da londra perché domani riparto torno a casa in realtà non è che sono così triste perché essendo stata qui praticamente una settimana comunque mi sono goduta i giorni molto me lo sono goduta molto bene perché alla fine sono stati tanti giorni ho fatto tante cose abbiamo visitato tante zone praticamente tutte le zone che volevo rivedere e anzi ne abbiamo anche scoperte di nuove quindi sono anche pronta a tornare a casa perché secondo me è stata una bella vacanza è durata al giusto poi tornata a casa devo anche fare un sacco di cose quindi dopo questa settimana di pausa tra virgolette perché in realtà ogni giorno ho fatto mille cose sono andata in mille posti diversi ho camminato tantissimo però comunque è stata una vacanza e quindi sono anche felice di tornare un po' a fare delle cosine che so che mi aspettano già a casa e poi ovviamente a casa mi piace anche poi mettermi lì in piscina ad abbronzarmi e quindi sarà anche un po' una vacanza tornare a casa vabbè succederanno comunque cose belle anche quando tornerò quindi sono felice di questi giorni a Londra e sono felice anche di tornare a casa quindi oggi che è l'ultimo giorno me lo godrò bene come ho fatto fino ad oggi siamo arrivate a Bond Street che è una fermata della Central Line ed è su Oxford Street adesso scoprirò se riuscirò a trovare i prodotti di Zoella proveremo nell'ultimo Superdrug uno dei più grandi di Londra lì dovremmo trovarla spero altrimenti me ne tornerò a casa senza i suoi prodotti e ci tenevo tanto a prendere almeno il profumo almeno a provarli dopo tutta la strada che abbiamo fatto al sole se non ci sono i prodotti lo spero siamo arrivati adesso vabbè che poi possiamo consolarci con dell'altro shopping però spero davvero di trovarli ok abbiamo trovato alcuni prodotti però non c'è la nuova collezione c'è questo che è il mio preferito lo ricomprerò però non c'è la nuova collezione quindi magari chiedo se non c'è prenderò questo qua che mi piaceva tantissimo shopping da Superdrug fatto alla fine siamo riuscite a trovare la zona della nuova collezione di Zoella quindi ho preso il profumo e poi ho preso altre cosine adesso ovviamente essendo Oxford Street continuiamo a guardare nei negozi shopping mica shopping adesso andiamo da Urban Outfitter pranzo time guardate dove siamo andate da McDonald's da vere inglesi questo è un cibo classico inglese ho preso il mio solito menù col filetto fish e poi ho preso anche questi che sono i cheese bites che secondo me in Italia non ci sono sono fatti così e la Giulia invece ha preso il cheeseburger giusto? oh yeah buon appetito siamo tornate a casa per rinfrescarci un po' si lo so che continuo a ripeterlo però vi giuro che fa caldissimo non credo di aver mai vissuto Londra con queste temperature anche se in passato sono venuta anche ad agosto questi giorni veramente sono invivibili e tra l'altro il caldo non smette perché è una settimana che sono qui ed è una settimana che fa così caldo quindi per fortuna questa casa appunto è sulla jubilee line sulla grigia ed è nella zona 2 quindi abbastanza vicino al centro per fortuna non è molto lontana quindi se abbiamo caldo vogliamo rinfrescarci oppure vogliamo solo passare un attimo da casa possiamo appunto farlo e poi tornare in centro infatti stasera che è l'ultima cena andremo di nuovo appunto in centro però abbiamo fatto due orette anzi stiamo facendo due orette qua a casa per rilassarci un secondo perché vi giuro che aiuto non mi aspettavo facesse così tanto caldo e intanto mi sono messa un po' a sistemare le cose nella valigia e tutto perché appunto domani parto quindi ho sistemato un po' le varie cose oggi non ho fatto tantissimo shopping come avete visto ho girato un po' per i negozi però in realtà non ho preso tantissimo però sono felicissima di aver trovato le cose di Zoella quindi ho preso inizio a far vedere qualcosa perché adoro gli spoiler quando si parla dei miei video in generale li odio gli spoiler però adoro spoilerare le cose che compro allora ho preso da super drag questo che è il profumo che si chiama Let's Pritz di Zoella che è di una collezione vecchia però a me piace tantissimo ne avevo comprati tipo due o tre in questi anni e quindi l'ho ripreso perché mi piace un sacco e poi ho preso invece il nuovo profumo della nuova collezione che si chiama Botanic E E de Toilette Body Mist eccolo qua che ha un profumo molto fresco e anche forse un po' non so come dire ma voglio dire di sapone perché non c'entra niente però ha un retrogusto un po' anche di cetriolo non lo so sa molto di prodotti per la pelle per la cura del corpo ed è molto rinfrescante mentre l'altro profumo sa di frutta buonissimo poi per il resto ho preso un'altra cosa da Topshop sono passata da Lazy Off ma non avevano la taglia di un vestito che mi piace tantissimo che tra l'altro era anche in saldo ma non avevano la taglia quindi niente adesso sto aspettando che Giulia finisca di fare le sue cose e ci prepariamo tra virgolette perché tanto non è che dobbiamo fare chissà cosa semplicemente usciamo a cena però pian piano cerchiamo di rimetterci in sesto magari mi cambio la maglietta perché l'ho tenuta su pochissimo ma comunque me la sento già super sudata adesso vedo un po' cosa fare comunque non so se ve l'ho detto ma questa maglietta l'ho presa da Forever 21 qui a Londra perché oggi ho postato delle storie e me l'avete chiesto quindi mi è venuto in mente che non so se ve l'ho detto forse sì non importa vabbè comunque mi rendo conto che in questo vlog vi sto facendo vedere praticamente tutte le cose che sto prendendo qua a Londra anche se non è una vera e propria haul vabbè mancano due fermate e siamo arrivate a destinazione che ore sono quasi le sette dopo essere state bloccate nella metro cioè non avete idea dell'ansia perché la metro si è fermata proprio nella galleria siamo riuscite a scendere a Green Park che è la fermata anche di Buckingham Palace infatti stiamo uscendo proprio nel parco che bello poi nonostante siano ormai le sette e mezza è ancora c'è ancora il sole guardate che bello siamo venute a questo Starbucks in cui vengo spesso quando sono nella zona di Piccadilli e mi piace tantissimo perché dentro è ancora tipo antico molto classico con questi divanoni divanoni enormi di pelle enormi di pelle lo adoro adesso entriamo a prenderci qualcosa però è troppo carino questo mi piace tanto ecco quello che intendevo oh ho preso anche la Giulia guardate che carino questo Starbucks e ovviamente ci siamo prese l'ice caramel macchiato tutte e due praticamente una delle ultime volte in cui lo prenderò se non davvero l'ultima oh oh mi mancherà ora di cena ci siamo messe in questo pret nella zona di Covent Garden e ci siamo messe vicino alla finestra così guardiamo fuori un po' la visuale anche se è sulla strada comunque io ho preso il mio solito panino preferito con cetrioli e tonno poi ho preso questo dolcetto e poccorn e caramello poi ho preso l'arancia cioè l'arancetta non è vero è la spremuta d'arancia 100% arancia e Giulia invece ha preso questo piccolo panino perché il caramel macchiato di prima la riempita un sacco ed è un panino al prosciutto con l'acqua buon appetito stavamo decidendo dove prendere la metro per tornare a casa e ci siamo rese conto che camminando siamo arrivate praticamente sul Tamigi quindi siccome sono quasi le neanche le 10 no in realtà sono le 9 e mezza quindi praticamente il sole sta tramontando adesso forse riusciamo a vedere il tramonto sul Tamigi non lo so perché stiamo facendo questa via lì c'è il fiume quindi ancora non sappiamo bene la visuale come sarà però il cielo è bellissimo non so se riuscite a vederlo quindi adesso andiamo sul Tamigi e speriamo di riuscire a vedere appunto il tramonto perché appunto non so se il sole tramonta sul Tamigi oppure verso un'altra direzione adesso lo scopriamo però appunto in un attimo abbiamo deciso di alzarci e andare perché è praticamente ora l'ora del tramonto quindi o adesso o mai più e non so nemmeno se mi avete sentito perché c'è un po' di vento devo dire ecco il London Eye ecco il Big Ben che sembra no non è spacchettato il Big Ben è quello impacchettato purtroppo adesso cerchiamo di salire su questo ponte così magari riusciamo a vedere meglio però già così l'atmosfera è bellissima ok il sole comunque è di qua come vedete qui è tutto rosa mentre il London Eye e tutto il resto sono di qua sarebbe stato meglio se il sole fosse tramontato qui però non importa è comunque bellissimo che figo eccoci tornate a casa adesso Giulia è in bagno intanto io mi sono già struccata e mi sono anche messa in pigiama come vedete fa caldissimo continua a fare caldo comunque adesso mi metterò a sistemare le ultime cose della valigia soprattutto anche le due cose che ho preso oggi da Hollister le ho prese prima comunque sistemo le ultime cose chiudo la valigia così domani è già tutto pronto per fortuna l'aereo domani non ce l'ho prestissimo perché l'ho preso all'ora di pranzo così posso fare tutte le cose con calma però ecco entro domani pomeriggio sarò a casa così poi potrò anche editare questo video l'altro video che ho registrato qui a Londra e tra l'altro voglio anche chiedervi se vi interessa una haul di Londra non ho comprato 3 miliardi di cose però volevo fare la haul all'interno di questo vlog ma non ce l'ho fatta perché abbiamo fatto tantissime cose in questi giorni quindi le poche ore che ho passato qua a casa erano più che altro per rilassarci rinfrescarci e tutto il resto quindi se vi va vi mostrerò i miei acquisti di Londra in uno dei prossimi video fatemelo sapere qui sotto e tenetevi pronte perché presto uscirà anche il Instagram controls my life a Londra adesso ci metteremo anche a guardare qualche episodio di Atypical se si chiama così Atypical che è una serie tv di Netflix è molto molto carina ve la consiglio perché è una serie che possono vedere tutti e secondo me è bella anche proprio come sottofondo anche vederla in giornata ed è anche abbastanza estiva è anche un po' comica e tratta anche degli argomenti anche seri però sempre con il sorriso quindi vi consiglio Atypical su Netflix quindi ci vedremo qualche episodio e poi ci facciamo anche una bella maschera viso e poi niente poi andremo a dormire e domani Giulia siccome non deve lavorare mi accompagnerà anche non fino all'aeroporto perché è un po' lontano però mi accompagnerà per un po' di tragitto quindi io vi mando la buonanotte da Londra e ci vediamo prestissimo con un altro video o un altro vlog buonanotte